alex cosa pensi di bea giocatrice o sincera no assolutamente giocatrice mi spiace ve lo dico come la penso io penso che è una donna che per il traguardo non ha nessun limite è il mio pensiero alex è un grande nessun limite nessun freno un po spinto fatti tutto il giornale è un po più spinto è un po più attivo è normale sono umano